Gli hanno spaccato tutti i denti e la denuncia dei familiari di Giuseppe Margiotta, il 33enne leccese, rinchiuso nel cacere di Fiere dallo scorso 8 febbraio, da quando la polizia albanese lo arrestò insieme ad un altro leccese, Fabio Gallucci, 31 anni, per alcune rapine commesse nel paese delle Aquile. I familiari del 33enne Salentino, preoccupati per le sue condizioni di salute, si sono affidati nelle scorse ore all'avvocato Giordano Bozzano, nel tentativo di evitare che la permanenza nel carcere albanese possa arrecare ulteriori danni alla salute del ragazzo. Secondo la denuncia presentata dai familiari all'avvocato Bozzano, Giuseppe Margiotta sarebbe stato picchiato dalla polizia albanese, che forse per costringerlo a confessare i reati gli avrebbe rotto tutti i denti, non esitando a bruciarlo sul corpo con i mozziconi di sigaretta. Il regime carcerario albanese, storicamente molto rigido, non sarebbe dunque compatibile con le condizioni fisiche del 33enne leccese, accusato insieme al complice di avere commesso una serie di rapine in gioielleria tra Fiera e Valona, rapine violente durante le quali due salentini stordivano con una pistola paralizzante le vittime per poi immobilizzarle con delle fascette in plastica e rinchiuderle in bagno, ripostigli e dunque a giro indisturbati.